Ci stanno questi tre amici ingegneri, un ingegnere elettronico, un ingegnere meccanico e un ingegnere informatico che mi fio, con la macchina partono e vanno a prendersi un aperitivo, a un certo punto la macchina si ferma, scende l'ingegnere meccanico e gli fa secondo me si è rotto la pompa dell'acqua, poi scende l'ingegnere elettronico e gli fa no no secondo me l'alternatore, poi esce mi fio l'ingegnere informatico e gli fa raga ho trovato la soluzione, proviamo a uscire e a rientrare